sembrano le prime luci dell'alba invece sono già le sette e mezza ormai comincia il linux day ferrara il ferrara linux day 2024 ecco è già arrivato holtz con ospite con relatore allegato cosa c'è scritto non si è visto c'è il braccio davanti l'ingresso è sul retro ciao paolo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti